A te Cazzisca è il Big Camp, sei un grande amico di questi ragazzi, che emozione è per te? Venire non è la prima volta? Beh, è sempre bello vedere dei giovani pallavulisti che si allenano, che fanno il loro meglio per crescere, per diventare sia migliori come pallavulisti, ma creare anche un gruppo bello. Nella tua presenza non solo didattica, non solo il racconto della tua carriera, ma anche tanta pratica perché hai giocato con loro? Sì, io ho colto l'opportunità di fare un piccolo allenamento, di toccare un po' di palla, visto che io sono in vacanza, ma devo dire che loro sono stati più bravi di me. Diciamo che da un mese a questa parte con i bambini o con i ragazzi molto giovani hai qualcosa in più a che fare perché sei diventato papà? Sì, per me è una nuova esperienza, adesso ho da imparare tanto, quindi mi butto su quel campo lì. Bellissimo che sia nato a Trento, ancora più forte il legame con questa città, con questa terra. Beh, più forte di così io non lo so.